Raffaello, ma chi è? Chi è? Raffaello, chi è? Dai, vieni, te muovi! Ma chi è? Dai, Raffaello, chi è? Dai, vieni, ma chi è? Sun tel papie! Mattias Martelli, giullare per Raffaello. A 500 anni dalla morte dell'artista rinascimentale, l'attore al Teatro Sanzio di Urbino, con Il figlio del vento, ne ha raccontato la breve e intensa vita, svelando aspetti sorprendenti della personalità di Raffaello. Raffaello Sanzio era un uomo felice, un uomo audace, un uomo coraggioso, per niente mite, un uomo affascinante, dalla vita veramente esplosiva e multicolore. Era un pittore con un talento tale che era riuscito a riassumere la lezione dei suoi maestri del Perugino, e del padre, ma poi anche di Luca Signorelli, e a coniugare l'insegnamento di Leonardo da Vinci, la sua dolcezza e la monumentalità di Michelangelo Buonarroti. Perugino, oh, oh, Lorenzo Lotto, oh, Sodoma, oh. È quello! Che l'ha fatto? Raffaello! Quello che volevamo fare è percorrere questa cavalcata straordinaria della sua vita, che inizia con il vento di Urbino e finisce tragicamente a 37 anni. Dentro questa vita ci sono le sfide, i viaggi, gli amori straordinari, la fine appunto tragica, e dentro la pittura di Raffaello questa cavalcata è evidente, è una cavalcata che esprime la felicità della sua vita. Abbiamo costruito lo spettacolo unendola, un'interpretazione giullaresca, quindi molto corpo, gestualità, voce, mimica, assieme a due elementi fondamentali, la musica dal vivo e l'arte visuale. Questi tre elementi insieme costruiscono uno spettacolo che secondo noi dà il senso di questa vita esplosiva e straordinaria di questo grandissimo artista e genio, che non è assolutamente meno affascinante di Leonardo e Michelangelo. Uno spettacolo che riprende la tradizione del teatro giularesco caro a Dario Fo, l'artista premio Nobel che con il suo teatro tanto ha ispirato Martelli. Quell'esperienza mi ha colpito moltissimo il modo di giocare di Dario Fo. Non a caso recitare in francese e in inglese si dice giocare e Dario Fo giocava, faceva immaginare mondi straordinari con la sua gestalità e la mimica. Io da bambino ho visto questo adulto giocare e ho pensato che quello fosse il teatro e per me questa è l'essenza del teatro, il teatro totale, quello per cui credo sia importante combattere oggi in un momento così difficile. Quella nelle case, nella villa di Agostino Chigi.